Mi piace perché si vince sempre, fa parte dello Starz, perché è uno sport molto impiennativo, insomma si può dire, si mette con impegno a concentrarsi molto piano, tirarla piano, molto piano, molto forte, secondo come si tira la voce. Abbiamo un buon numero di bambini, adolescenti, giovani adulti con e senza difficoltà, mi piace sottolineare proprio questo l'aspetto, noi costantemente, quotidianamente lavoriamo proprio per cercare di far sì che lo sport diventi il mezzo per far stare insieme bambini e adolescenti con e senza difficoltà e quindi lo sport unificato, le bocce è uno degli esempi di sport unificato, ma poi nella nostra associazione portiamo avanti tante discipline che si prestano per far sì che bambini e adolescenti con difficoltà e senza possano giocare insieme, possano competere, possano testarsi durante anche questi eventi sportivi, le loro abilità, ma anche proprio le loro abilità sportive e anche sociali. Sì, in effetti dopo un anno di allenamenti siamo giunti a organizzare questo torneo regionale, è un momento di gara, un momento di grande felicità che raccogliamo tutti gli amici dalla regione. Aspettano questi momenti proprio per stare insieme, per vedere magari amici che non vedevano da tanto tempo, che sono di altri comuni, di altre regioni. È importantissima per noi, per loro, per le famiglie, per tutti. Sono giornate bellissime che bisognerebbe farle più spesso, purtroppo si fanno troppo di rato, però andrebbero fatte perché sono giornate stupende. Arrivi stasera, sei stanco, ma la stanchezza non si sente. Stare con loro è tutto un altro mondo. Stare con loro per le famiglie!